Il circo è un miscuglio di tecnica, precisione e improvvisazione. Esattamente, noi ce li abbiamo tutti questi ingredienti. Una bella iniziativa per il 27, quei due appuntamenti alle 18, alle 20. Io vi ho dato anche un bel nome secondo me, le circonda. Modesto. Modesto, dai, riprende il V con Venezia, il circo, perché il tema di quest'anno, Civitas Ludens, è questo, il creatum che è stato fatto per il ternevale 2018. E mi è piaciuta molto l'idea che hai messo di Federico Fellini, questa frase che hai riportato, del circo che è un miscuglio, io avrei fatto il direttore di un grande circo, mettendo insieme, se il circo fosse ancora stato attuale, mettendo insieme tecnica, improvvisazione e precisione. Penso che questi ingredienti li abbiamo tutti nella nostra iniziativa di sabato prossimo. E poi, soprattutto, il circo è da sempre la casa del mondo e anche questo spettacolo, è uno spettacolo che porta a Venezia rispettando il suo spirito, gente da ogni parte del mondo, le marionette più grandi del mondo che arrivano dalla Polonia, artisti che poi arrivano da tutte le parti d'Italia. Insomma, è un bel legame con lo spirito di Venezia. E poi, insomma, il circo classico, quello è probabilmente la formula migliore, gli uomini forzuti, gli sputafuoco, gli acrobati, i clown. È tutto molto felliniano, inteso come suggestione, periodo di riferimento, epoca. Poi, naturalmente, il paragone con il grande maestro è assolutamente improbo. Però, insomma, il suo spirito, se non altro, quello l'abbiamo salvaguardato, direi. E soprattutto, per fare contento al nostro direttore di produzione, una grande sorpresa finale. Venghino, siore e siori, è tutto gratis. Più gente entra, più bestie si vedono. Più gente entra, più bestie si vedono.